Pre Federica Brignone che piazza la prima vittoria di stagione, quanto se la meritava perché dopo tutti i secondi posti, dopo tutti i grandi piazzamenti, una stagione cominciata alla grandissima, per la Val d'Ostana arriva anche la Griff, arriva il successo d'autori a Courchevel con uno splendido gigante, con una seconda manche sontuosa, dopo un'altrettanto sontuosa prima manche, per una Federica Brignone che oggi peraltro va a battere una Mina Holtmann, la norvegese indemoniata, era un po' la giornata di grazia di questa norvegese che per la prima volta è salita sul podio, è andata a un'inezia della vittoria a 4 centesimi e avrebbe vinto se non avesse pasticciato nella parte finale dove ha un po' perso, andando in ritardo di linea nell'entrata a muro, ma appunto si sottolineano ancora una volta i meriti di Federica Brignone, come sempre stilosa, potente, con le sue linee larghe ma con una velocità straordinaria e con una leggerezza bellissima. Peccato oggi per la Bassino che però insomma ci sta alla fine anche arrivare in settima posizione, comunque un buon piazzamento resta per Malta Bassino, peccato perché la prima manche ci aveva fatto pregustare a qualche traguardo magari più importante, però insomma resta una grandissima gara appunto con la vittoria della Brignone e con la bella prova della Goggia anche, di Sofia Goggia che ha recuperato ben 10 posizioni dopo la prima manche andando a dissarsi addirittura, pensate un po', in sedicesima posizione dalla ventiseiesima, davanti a Michaela Schifrin che oggi è ampiamente deluso, diciassettesima, insomma la grande assente di oggi è stata Michaela Schifrin che in gigante probabilmente ha perso qualcosa rispetto ai suoi tempi migliori, ma appunto oggi con Tessa Wurley che anche non ha fatto una grande gara ma in un podio assolutamente particolare perché vede per la prima volta salire sul podio in gigante, Vendy Oldner a cui manca soltanto il podio in discesa dopo aver appunto conquistato almeno un podio in tutte le discipline, quindi insomma a dimostrazione anche della grande polivalenza di Vendy Oldner che si mette peraltro alle spalle un brutto periodo, l'altro giorno si era messa anche a piangere dopo il Super G casalingo di Sam Moritz, si mette alle spalle il brutto periodo con un grande podio perché è un podio un po' inedito appunto con la Oldman e con la Oldner che salgono per la prima volta sul podio in gigante, ma l'unica certezza è sempre lei, è sempre Federica Prignone che indosserà anche con un bel vantaggio, con un grande vantaggio sia sulla Oldman sia su Marta Bassino il pettorale rosso di leader della classifica di specialità di gigante, assolutamente se lo merita, se lo merita la Valdostana perché in questo momento è la sciatrice che in assoluto almeno in gigante sta sciando meglio, ma appunto una stagione che è cominciata bene in tutte le discipline, è cominciata bene nella velocità, è cominciata bene in gigante, non è mai uscita dalle prime sette, è uscita in slalom peraltro dove stava facendo una grandissima seconda match, dove aveva chiuso undicesima la prima match e con la seconda match che stava facendo probabilmente sarebbe entrata non solo tra le dieci ma addirittura fra le prime cinque, quindi anche in slalom ha dimostrato dei progressi, insomma una stagione che è cominciata alla grandissima con il piede giusto, per una Federica Brignone che adesso anche con la grande esperienza che ha alle spalle può davvero consacrarsi definitivamente, e si era già consacrata chiaramente, ma adesso oltre ad andare forte in gigante, quello l'ha sempre fatto, va anche forte in altre discipline, e intanto siamo a 11 vittorie in Coppa del Mondo, a meno 4 dai soldi Costner e a meno 5 da Deborah Compagnoni, e insomma le nostre azzurre, Marta Bassino, Sofia Goggia che avevano già conquistato la vittoria adesso, mancava soltanto lei ad iscriversi, Federica Brignone, ed eccola qua, la griff straordinaria nel gigante di Cuscevella, fatemi sapere voi nei commenti invece che cosa ne pensate, lasciatelo anche nei video e condividete questo video, se ancora non l'avete fatto, insomma queste ragazze continuano a farci sognare per una stagione, che al femminile almeno, è cominciata alla grandissima, e a questo punto, arrivederci a chiacciare al prossimo video.